Hola la, questo è il porto, sono in vacanza, dopo il tour e mi sto riposando. Oggi vi parliamo della informazione giornalistica di Repubblica a Roma. E' un po' uno straordinario successo dei miei concerti, oggi appare questo articolo sul giornale, Cara Rockstar, e la foto è la mia, dove ci sono naturalmente sopra delle cifre completamente inventate e false, perlomeno le mie, quindi penso anche a quelle degli altri, e dove nell'articolo con la mia fotografia c'è scritto, Cara, sapre essere le stelle dell'estate dei concerti fa, flop, con la mia fotografia. Ecco, questa è la comunicazione, questa è la comunicazione di Repubblica, quindi Repubblica, la mia estate, ha fatto flop.